Alla mostra d'oltremare ritorna creativa la fiera delle arti manuali e del bricolage che quest'anno raggiunge la presenza di 100 imprese con 17 regioni rappresentate prima su tutte la campania. Ricamo, decorazioni, filato, bigiotteria e tante altre attività con oltre 100 iniziative fra laboratori, corsi e dimostrazioni che animeranno i padiglioni della mostra da venerdì 10 a domenica 12 novembre. Torniamo a Napoli per la settima edizione di Creativa, sono sei anni che veniamo a Napoli perché per un'edizione abbiamo fatto anche l'edizione primaverile. Un grande successo, gli espositori crescono, sono oltre 100 gli espositori presenti in questa iniziativa per cui dagli 80 che erano 85 che erano l'anno scorso c'è stato un ottimo sviluppo. Espositori che vengono da tutta Italia, anche dall'estero, per la gran parte sono della campania ma anche del Veneto, anche della Lombardia, per cui è una manifestazione che attira operatori a livello nazionale. Per promuovere le arti manuali fra i ragazzi delle scuole è previsto l'ingresso gratuito per tutti gli insegnanti. In collaborazione col Comune di Napoli è in programma un progetto di cucito creativo dedicato ai ragazzi disabili della casa famiglia La Scintilla, prima fase di un percorso di inserimento sociale e lavorativo. Un'altra iniziativa è quella di lasciare un contributo concreto al territorio napoletano che ci ha ospitato per queste sei edizioni e intendiamo appunto donare un laboratorio con macchine da cucire a un'associazione che si chiama La Scintilla che opera con persone disabili in modo che abbiano l'opportunità di apprendere queste tecniche e di creare un vero e proprio laboratorio di cucire e sviluppare le loro capacità durante l'anno creando degli oggetti che poi possono anche essere messi sul mercato. Moltiplicare le opportunità per le ragazze e ragazze di Napoli per noi è fondamentale, farlo attraverso ogni iniziativa per chi è più speciale e quindi questa dotazione vera e concreta di un laboratorio di cucito che potrà permettere a dei ragazzi, quasi una ventina portatori di disabilità, ragazzi down, di poter diventare dei lavoratori attraverso insegnare un mestiere e penso che quest'anno sia uno straordinario valore aggiunto per il quale noi come Comune di Napoli sosteniamo e siamo al fianco di questa fiera. Una fiera che dal 10 al 12 novembre si realizza nel nostro parco fieristico meraviglioso e unico cittadino che l'ha mostrato il Tremare e al quale anche va il nostro ringraziamento e quindi un invito a fronte di un lavoro corale e forte insieme al nostro sindaco per rendere questa città sempre più attrattiva e dinamica nella sua offerta. Creativa è veramente un bel modo per poter vedere come le mani e il proprio ingegno e il proprio talento può dare vita a un percorso di vita lavorativa e di produttività veramente interessante. Grazie. 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 Grazie.